carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi di tenera amata sul libro di tenera amata e cade questa puntata nell'ottava di natale quindi vedremo in questo tempo così bello e santo che cosa ci riserva la lezione di questa sera ci siamo lasciati la volta scorsa con ricardo che si era appena bilocato nel suo corpo di bambino e chi lo sa se questa sera vedremo o forse non questa sera ecco forse sì che ricardo farà una marachella durante questa esperienza di birocazione e le conseguenze anche che sarà molto bello andarle a vedere e rifletterci un pochino sopra direi di cominciare subito la lettura dato che ci siamo rapidamente ricollocati dove siamo rimasti e così andiamo avanti all'improvviso leggo l'ultimo capoverso così ci collochiamo meglio all'improvviso mi sentì dentro il ragazzino sbalordito ed immobile non si trattava di un incontro tra me e lui dal momento che il che in quel bambino non vi era nessun altro né fuori di me ero assolutamente sicuro che tutti e due eravamo la stessa persona a causa della posizione del volto del bambino appena riuscivo a vedere attraverso dei suoi occhi nei miei occhi infantili e al margine del campo visivo una piccola parte del mio corpo di anziano dall'altra parte della finestra mi sarebbe piaciuto che il bambino muovesse leggermente la testa per guardare teneramata accanto al mio corpo di adulto e al tempo stesso vedere la mia faccia attuale non lo sai comandare quel movimento secondo le istruzioni ricevute sapevo però che mi sarebbe stato molto facile volerlo potevi invece osservare con gli occhi fissi del mio corpo infantile immobili sul bel volto della ragazza che con la bocca semi aperta sembrava di cantare la stessa teneramata la mia antica pacarera con la sola differenza che restava in piedi vicina al mio corpo di bambino tuttavia la teneramata celeste quella che stava fuori appariva molto più bella di quella che contemplavo nei miei occhi infantili che meravigliosa sensazione vivevo io nel mio antico corpo lei aveva ragione mi sentivo come nella mia propria casa e quel mio corpo anteriore custodito fedelmente nel magazzino del tempo passato o quinta dimensione era 48 anni più piccolo di me la mia anima spirituale aveva preso possesso cosciente del mio antico corpo l'opzione era affascinante sentirmi bambino o anziano è chiaro che non comprendevo il prodigio ma godevo sperimentandolo nonostante la bilocazione mi disse teneramata continuo in contatto spirituale con te in questi istanti di paratempo la tua unica anima si trova ad animare coscientemente i tuoi due corpi non ti suggerisco di farne la prova poiché è difficile abbreviato ricomandare in un corpo ad essere ed essere recettore nell'altro è come se la mia anima si fosse se la mia unica anima si fosse reincarnata nel mio corpo di bambino vero no la bilocazione e la reincarnazione sono due cose diverse quest'ultima significa secondo quanto vedo nella tua memoria che un anima umana venga ad animare esclusivamente un altro corpo diverso da quelli che possedetti in questa vita terrena la bilocazione invece l'attuazione cosciente di una stessa anima spirituale in due luoghi diversi allo stesso tempo oppure in due spazi tempi differenti questo l'abbiamo già imparato ma facciamo una prima sosta anzi leggiamo un altro capoverso che finisce di parlare della differenza tra bilocazione e reincarnazione tu non ti sei reincarnato nel tuo corpo di bambino perché la tua propria carne la tua anima non è trasmigata da un corpo ad un altro diverso ma sta animando due corpi tuoi distanti nel tempo inoltre la metempsicosi o reincarnazione è una teoria erronea l'anima mai si rende indipendente dal suo organismo integrale quindi è impossibile che si reincarni ciò che mai si disincarna dopo ti spiegherò in che cosa consiste la morte attenzione che questo è un concetto fondamentale è un concetto fondamentale e che come dire non rettifica alcune idee che ci abbiamo le rettifica inevitabilmente allora ricollochiamoci in quello che stiamo vedendo allora cosa sta succedendo abbiamo imparato la volta nelle lezioni precedenti proprio la volta scorsa che noi conosciamo soltanto un tipo di bilocazione conosciamo ne abbiamo sentito parlare tipo le bilocazioni di padre pio no che cos'era la bilocazione di padre pio era che padre pio nella stessa ora si trovava con il suo corpo di 48enne 50enne 60enne in due posti diversi in contemporanea tu ci parlavi a san giovanni rotondo e magari una persona sta parlando a milano questa era l'unica bilocazione che noi conoscevamo però quello era sempre padre pio quindi cosa dice tenera amata due luoghi diversi la stessa anima spirituale in due luoghi diversi allo stesso tempo ok anima lo stesso corpo in due luoghi diversi allo stesso tempo oppure e questa non la conoscevamo la stessa anima spirituale anima lo stesso corpo ma in due spazi tempi differenti come nel caso che sta facendo vivere a riccardo 48 e 8 anni o dieci anni adesso non mi ricordo quanto 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 c'è quel bambino ma è tanto importante ovviamente no e riccardo avverte che primo la sua anima spirituale aveva preso coscienza di quel corpo e secondo che non stava lì dentro come un estraneo quindi come un interlocutore ma stava lì dentro come se stesso è chiaro che questo noi possiamo capirlo entro certi limiti perché non abbiamo vissuto quindi qui ci sono tante cose già in tutte quante le verità di fede è sempre sapete no si chiamano misteri misteri significa che tu puoi cogliere qualcosa ma non lo puoi capire perfettamente perché se la capissi perfettamente non sarebbe più fede sarebbe una non sarebbe più una conoscenza di fede sarebbe una conoscenza per cause quindi sarebbe una scienza in senso stretto quindi nelle cose di fede per questo che si chiamano misteri misteri mistero è qualche cosa non di completamente vanescente quindi la cosa mistero non ci capisco niente no non è così mistero ci capisci qualcosa quindi lo inquadri lo focalizzi in parte però ti sfugge pensiamo all'oceano dei misteri che la santissima trinità lì è difficile anche focalizzare qualcosa nel senso che anche la teologia che pure c'ha delle conoscenze certe ci sono stati i primi sei concili della chiesa che sono stati dedicati tutti quanti al dogma trinitario al dogma cristologico quindi combattendo tutte quante le eresie che sono stata bizzeffe su questi temi però tutti studi tutti quanti i concili e quindi ti impari bene la dottrina cattolica su tantissima trinità diciamo che si un pochino hai focalizzato ma in relazione a quello che dio è a quello che dio trinità è io lo dico insomma con cognizione di causa perché credo di essere in grado di poter presentare adeguatamente la fede cattolica sulla santissima trinità però in confronto a quello che dio è si balbetta qualcosa di vero per carità di sacro santissimo ma si si balbetta qualcosa ecco quindi non pretendiamo nemmeno io continuo a ricevere mail cose domande cioè punto primo prima di fare le mail e le domande ho sempre detto arrivate arriviamo alla fine dell'opera d'accordo perché alcune cose vengono trattate nel corso di essa noi siamo ancora siamo arrivati più o meno a metà siamo a pagina 58 di 102 ce ne stanno altre 50 pagine ecco poi possiamo fare alcune domande domande per carità a cui spero in parte di saper rispondere perché qui si aprono degli orizzonti delle prospettive inediti e in cui non sempre si capisce bene per esempio oggi in questo primo capoverso afferma che la reincarnazione oltre a essere un errore è impossibile ecco perché un errore perché perché l'anima non si rende mai indipendente dal sentimento dal suo organismo integrale mai più avanti ti spiegherò che cosa consiste la morte posso già anticipare la morte non è l'apertura di una fase in cui se noi saremo semplicemente puri spiriti non è esatto questo qui perché l'eternità creata che abbiamo vissuta cioè se stiamo capendo questo concetto attenzione facciamo l'esempio di adesso cioè quello che io sto vivendo adesso si deposita nel magazzino del tempo non può essere cancellato cioè ora la mia anima sta animando il mio corpo alle 21 e 47 del 29 dicembre del 2022 questa cosa rimane per tutta l'eternità per cui quando io sarò morto certamente se io muoio tra 50 anni lo spazio tempo del 2000 e che ne so del 2000 da quello che ho capito del 2000 facciamo del 2100 che sicuramente sono morto nel 2100 speriamo prima sicuramente nello spazio tempo del 2100 io non starò su pianeta terra con il mio corpo mortale perché il mio corpo mortale sarà dentro la tomba cimitero ma tutto quanto all'arco della mia vita terrena io l'ho vissuto col corpo e io l'ho vissuto col corpo quindi a quanto mi sembra cioè questo mi sembra certo da quello che si capisce qui i 50 30 20 40 anni che noi 50 80 che che campiamo con il nostro corpo salvo i gli spazi tempi peccaminosi che quelli vengono cancellati non ci sono ecco e che devono essere poi perdonati attraverso il sacramento della riconciliazione questi rimangono rimangono quindi se la mia anima sta anima il mio organismo integrale semplicemente poi a causa del peccato originale si staccherà passerà attraverso la morte e si e si si separerà dal dal cadavere poi lo spiegherà bene tenere una madre che significa non può incarnarsi in un altro corpo è impossibile non è soltanto un errore è impossibile questo capite che ci va anche ricoperare una dimensione differente e santa a mio avviso della nostra corporeità cioè il corpo qui siamo proprio migliaia di anni luce lontani sia dai platonici che dagli gnostici non è che il mio corpo è un accidente non ho il mio corpo cioè attenzione che anche tutta quanta la il nostro rapporto con con il corpo no con il nostro corpo cioè la comprensione di queste cose mi avviso fa comprendere per esempio anche alcune esortazioni che per esempio nella tradizione ascetica cattolica ci sono e qui le signorine adesso saltano subito dalla sedia cioè le alterazioni artificiali o artificiose del nostro corpo quelle che determinano un cambiamento come dire molto appariscente molto molto visibile siamo sicuri che siano delle cose fatte bene al 100% perché questo corpo che mi starò dato è esattamente quello che Dio voleva che io avessi in questo momento storico per esempio la mia persona non può godere come dire dell'abbellimento che nostro signore nel suo atto creativo fa agli esseri umani rappresentato dai capelli d'accordo? non ci stanno prescindendo dal fatto che sono prete quindi un prete non può non ci deve ancora pensare a queste cose non deve farle no? quindi però tanto per fare un esempio se facciamo finta che non fossi prete voglio farmi il trapianto che diciamo? lo facciamo questo trapianto oppure no? io sono mica tanto sicuro cioè adesso sto divagando con mie opinioni personali perché se il nostro signore voleva che io si capelli mi conservassi per sempre rimanevano e stanno persone che arrivano a 50-60 anni che hanno una montagna di capelli quindi come dire imparare a stare al nostro agio col nostro corpo così com'è senza andare a a violentarlo a sfrugugliarlo una volta che uno ha il dovere morale di mantenere il corpo in buona salute e qui si apre un'altra senza diventare esaurito chiaramente salutista eccetera eccetera però di mantenere in buona salute sì guardate che oggi in questo mondo che sembra idolatrare il corpo l'ho già detto altre volte in realtà c'è proprio una una pessima considerazione ed un pessimo modo di trattare il corpo pessimo ripeto il corpo non è un accidente oppure una cosa mi sono capitato qua dentro vabbè poi tanto va a finire sotto un metro di terra diventa cibo per i vermi quindi pensiamo all'anima sì per carità l'anima è sempre assolutamente il principio primo principale d'accordo anche perché se non penso all'anima il corpo se ne fa se ne fa ma l'ora per tutta l'eternità ha preso all'anima quindi ma non dobbiamo concepire questo questo rapporto come un rapporto estrinseco o accidentale no? voi pensate che gli ignostici che avevano radicalizzato alcune teorie platoniche voi sapete che secondo Platone Dio crea le anime prima le anime sono preesistenti dopodiché a un certo punto queste anime a causa della colpa originale cadono dentro un corpo questo diceva la dottrina platonica poi ancora più accentuata dal neoplatonismo e quindi si ritrovano per tutto il tempo della vita del re in questo carcere e non vedono l'ora di uscirne per ritornare al proprio principio sto semplificando ma questo è il platonismo Aristotele poi sarebbe opposto a questo qui e Sant'Ommaso avrebbe seguito Aristotele e la Chiesa ha seguito Aristotele non ha seguito Sant'Ommaso Aristotele diceva che l'anima era la forma sostanziale del corpo quindi forma sostanziale vuol dire che non è che c'è capitata così no no che insieme al corpo forma la persona allora alcuni ignostri dicevano allora la cosa importante è l'anima i famosi Nicolaiti di cui parla il libro dell'Apocalisse allora se la cosa importante è l'anima fai tutti gli atti impuri che te pare tanto gli atti impuri all'anima non gli fanno niente non gli fanno quelle sono cose corporene sono cose materiali quindi ti preoccupare e invece manco per niente fate attenzione a questo ragionamento perché non è tanto cioè l'atto impuro è un atto molto materiale no? oh ma guardate che dall'atto impuro è scaturita la rovina del genere umano catechesi dell'anno scorso che si trasmette e che ci mette in stato di interdizione per tutta quanta la vita il peccato originale non segna soltanto segna l'anima ed è una cosa che però è partita dico tutte quante queste cose per far capire bene alcune alcune dimensioni eh se uno si mette a fare troppo lo spiritualista va a finire che diventa agnostico in quel senso quindi l'anima è la cosa principale ma il corpo non è un dettaglio accidentale d'accordo e quindi poi anche una cosa che posso trattare pensato l'ho già detto credo non so se in questo contesto oppure durante le catechesi la barbarità dell'andarsi a fare bruciare dopo che uno è morto non è una cosa bella questa qui la chiesa lo consente si lo consente adesso non è che lo consente lo tollera ma non lo raccomanda e tantomeno lo consiglia e tantomeno lo approva a Tukur ti celebra il funerale purché sia chiaro che tu non hai fatto questo in sfregio al dogma della risurrezione ma non c'è se uno legge bene l'istruzione del 2014 si dovrebbe essere il 2014 o il 2015 si vedrà che la chiesa non ha fatto favorevole a questa cosa perché non è indifferente tanto è vero che durante le esegui ci sono tutta una serie di gesti di 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 espressione di ciò che il corpo di un battezzato è viene asperso con l'acqua benedetta viene asperso quando quando se su dotero va a benedire dopo che è morto alla fine del rito funebre poi se spergete con l'acqua benedetta pure il sepolcro e poi viene incensato il corpo il cadavere viene incensato, il feretro, che fai? Incensi il cadavere? Certo che incensi il cadavere, certo perché quello è il corpo di un figlio di Dio, è un corpo che da un certo momento l'anima lo ha lasciato e il cadavere lo lascia, come vedremo l'anima, questo è sicuro che l'anima lascia il cadavere, ma prima non è che il cadavere è un'altra cosa rispetto al corpo di prima, sì certamente è, è un corpo senza anima, ma è sempre il corpo di un figlio di Dio. Ok, proseguo la lettura, questi sono concetti abbastanza importanti, cioè vorrei far capire, stiamo leggendo un testo molto molto bello, ma sempre dentro un contesto catechetico, quindi che ci aiuti anche a interiorizzare alcuni punti e alcuni valori. Riprendo, il tuo organismo infantile continua e continuerà ad essere tuo, lo potrei possedere di nuovo pienamente in questo paratempo, ma non lascio che tu lo verifichi a causa dei pericoli che ti dissi. Quando vivrai nel cielo, attenzione, adopererai qualsiasi dei tuoi corpi in qualsiasi degli spazi, tempi che avrai vissuto sulla terra. Quando sarai in cielo però? E non dice dopo la risurrezione della carne, quindi vuol dire che l'anima che si separa dal cadavere può fare queste operazioni in tutti gli spazi e tempi che avrai vissuto sulla terra. Anzi, la tua anima li glorificherà in modo indicibile fino al limite del tuo grado di gloria. Il tuo spirito perfezionerà il tuo organismo integrale. A tal punto che nemmeno tu stesso ti riconoscerai. Il Beato esercita assoluto dominio sulla materia, energia, spazio, tempo, eternità creata. Assoluto dominio sulla materia, l'energia e lo spazio-tempo dell'eternità creata. Più avanti te lo dimostrerò. Attualmente osservi te stesso unicamente nel piano della coscienza ridotto ed incompleto del momento presente. Torniamo sempre allo stesso punto. Ti conosci appena nel bagliore del lampo dell'istante attuale. Non riesci a contemplarti nel grandioso ambito della realtà oggettiva e completa come un essere totale in rilievo con tutti i tuoi atti di esistenza nei loro rispettivi spazi-tempi. Vedrai che meraviglia quando contemplerai la serie delle tue fasi corporali nel fantastico ologramma eterno della beatitudine celeste. Non già tridimensionali ma pentadimensionale nemmeno quadridimensionale perché abbraccerà le cinque dimensioni lunghezza, larghezza, altezza, tempo ed eternità creata la famosa quinta dimensione. Don Pablo Martín quando ha scritto dei bellissimi testi che ho trovato per trovare il modo poi di inserirli e di commentarli adesso non so se durante oppure alla fine facciamo un appendice però chi si sorprende? Allora il discorso è questo qui l'ha fatto anche Terra Namata questo esempio la nostra vita è come se noi stiamo viaggiando sul treno sul treno il treno cammina e tu mano a mano che passi davanti a qualunque immagine che vedi dal treno immediatamente dopo è già sfuggita d'accordo? E supponiamo che la tua vita sia un viaggio in treno parti da A e arrivi a Z tu nella tua vita terrena stai sul treno per cui stai sempre in movimento il treno facciamo finta che non possa tornare indietro quindi può andare soltanto avanti fino a quando non arrivi a capolinea ma dice Don Pablo se tu salissi te ne vai a quota 10.000 metri d'accordo? E supponiamo che c'essi una bella vista bionica se tu vai a vedere da alto 10.000 metri anche un treno che percorra 1.000 chilometri la vedi tutta la traiettoria d'accordo? tutta quanta da sopra ok? questo è una piccola immagine che fa intuire non dico capire qualche cosa di quello che poi lì succede quindi c'è un controllo di tutto quello che c'è stato e una possibilità di intervento su quello che c'è stato allora torniamo alla tua bilogazione che ti sembra ciò che stai vivendo è fantastico sento che questo piccolo corpo è tutto mio ma non mi spiego il motivo non ho mai contemplato la mia anima risponde tra la mata non la vedrai con i tuoi occhi corporali ma la conoscerai molto bene nella tua vita eterna mediante la dilettevole attenzione introspezione celeste allora comprenderai che la tua anima pensa ed ama governa e controlla in modo perfetto la tua materia energia biologia e psicologia questo l'abbiamo già visto facciamo un ripasso no? forse non ce l'ha mai detto nessuno che la digestione è governata ed è diretta soggetto scenizzatura e regia dall'anima la circolazione del sangue dall'anima il ritmo del battito cardiaco dall'anima i battiti aumentano quando io sto camminando quando io sto correndo eccetera quando sto facendo attività fisica perché l'anima che è la grande direttrice anche se la mia coscienza non se ne rende conto adesso conosce benissimo tutte quante le leggi legate alla materia quindi sa bene che in presenza di un acerdo di un certo affaticamento eccetera eccetera adesso non sono purtroppo un espertissimo vado avanti a riminiscenze abbastanza rudimentali che ho di queste materie quanto vorrei adesso conoscere bene proprio da un punto di vista scientifico tante cose qualcuno mi ha mandato per mail anche delle bellissime cose dei trattati scientifici delle cose vorrei tanta vera un pochino di benedetto tempo magari si potrebbe pure trovare però adesso è tutto quanto complicato quindi tocca accontentarsi e magari rimandare lo so che tante cose sarebbe molto molto belle approfondire ma il tempo della nostra vita magari ci potessi andare a mettere dentro qualche paratempo adesso vedremo che alla fine di tutta quanta questa questa vicenda nel tempo normale sono passati non mi ricordo se pochi secondi o pochi minuti e qua nel frattempo ci abbiamo letto 100 pagine ci saremmo stati 50 ore su queste su queste cose qui no ecco vabbè quindi è fantastico quindi la conoscerai bene e conoscerai direttamente il tuo proprio volto o meglio i tuoi volti senza bisogno di fotografie né di specchi così come oggi osservi il tuo volto infantile attenzione così torniamo a quello che ci siamo detti prima sul corpo comprenderai fin nell'ultimo particolare la tua anatomia fisiologia biochimica fisica nucleare sopraenergia ed infraenergia e attenzione e ringrazierai il nostro dio dello splendido regale del tuo essere umano totale ora questa cosa noi in parte possiamo anticiparla siccome se uno impara attraverso la divina volontà a fare un pochino di giro tante volte durante le meditazioni ho detto ti sei fatto un po' di giri nel tuo corpo falli falli è bellissimo fare un po' di giri nel tuo corpo impara a farli col poco che possiamo però impara a farli certo adesso non possiamo comprendere però immaginate quando comprenderemo perfettamente la nostra anatomia la nostra fisiologia la biochimica la chimica della vita tutto quello che succede dentro tutte quante le le reazioni chimiche io ho una nipote che è laureata in chimica dico beata a lei io non so quasi niente di chimica perché la odiavo questa questa materia per quel poco l'ho studiato il fotoriceo classico quindi si studiava poco ma quel poco io mi ero messo in testa che la chimica non la volevo studiare io sto qui per studiare il latino il greco la filosofia la storia a me che me ne importa di queste cose queste cose materiali le chimiche le formule non ho tempo la mia stupizione di giovanotto e di adolescente non non mi faceva comprendere queste cose ma sarebbe bellissimo perché anche cioè in tutte queste cose la fisica nucleare ma voi pensate a qualche scienziato intelligente tipo Enrico Fermi a suo tempo o adesso anche Antonino Zichichi quando una persona usa il cervello capisce bene che accostarsi alla realtà profonda scientifica reale e accostarsi al nostro signore gli atomi li ha fatti lui le formule chimiche le ha fatte lui cioè le formule chimiche che danno vita alla varietà delle sostanze che ne so H2O che mi ricordo due atomi di idrogeno e uno di ossigeno che è la molecola dell'acqua la fatta lui questa composizione chimica e l'acqua è quella che è l'acqua perché H2O è la fatta al nostro signore questa è proprio una stupidaggine ma questo vale per tutte le sostanze magari a saperle tante cose però grazie a Dio recupereremo in paradiso e anche le persone che magari non hanno qui una grande cultura che magari si possono sentire un po' menomate vi preoccupate che in paradiso sentiamo tutti antissienziati tutti d'accordo perché queste cose valgono anche per la persona più semplice di questo mondo anche per la persona che non ha potuto approfondire gli studi non ha tutta questa grande cultura non fa niente non fa non c'è quello che c'è qua giù fa poco fa anche perché anche la cultura qua giù lo dico perché ho studiato una vita sto studiando ancora si acquisisce con una fatica enorme poi devi sempre tenerla fresca perché il magazzino della memoria non è come il magazzino di eternità creata dove tutto quanto rimane conservato cioè purtroppo qui il magazzino nostro c'è un sacco di falle c'è un sacco di fuori uscite quindi devi starlo sempre a tenere a andare a controllare le cose che ci stanno perché se no poi ti dimenti pure che ci stanno lì dentro è un macello insomma sono tutte quante le misere e le imperfezioni della nostra vita terrena di là però non è così allora era affascinante la mia bilogazione mi sentivo bambino ed anziano alternativamente simultaneamente questa è la cosa grande simultaneamente le esperienze della mia infanzia cercavano di rompere con tutta la loro carica emotiva nella mia coscienza ma in un modo naturale senza conflitto psicologico nella mia mente presto incominciarono a sorgere ansiose cose vissute nella mia infanzia capitolo 19 esplorai senza difficoltà il mio cervello di bambino non capii come ma notai che in contrasto con la mia esperienza attuale i centri nervosi della memoria contenevano delle immagini disordinate anziché riflessi condizionati ciò mi dimostrava che i miei antichi atti di esistenza persistevano cronologicamente conservati negli spazi della quinta dimensione aveva ragione la mia amata maestra quindi lui capisce la differenza tra la sua memoria di bambino e la sua memoria di adulto anche un bambino ha la memoria ma è una memoria molto più disorganizzata diciamo così rispetto a quella di un adulto e lui questo lo percepisce di nuovo sentì perché gli stavano freschi e con desiderio di affiorare nella coscienza molti ricordi che nell'età matura mi siano cancellati l'immagine di mia nonna con la sua bontà di energia quella di mia madre giovane allora attiva avvezza al soffrire fedele nell'adempimento del dovere triste per la sua prematura vedovanza e fiduciosa per il mio avvenire erano immagini calorose e vitali per la recente origine tutto ciò mi procurava delle sensazioni nuove e molto gradevoli il ricordo in sé attenzione era diverso dalla coscienza di stare a viverlo una seconda volta cioè posso ricordarmi benissimo alcune scene di bambino ma riviverle in questo modo sarebbe tutta un'altra cosa era differente anche dalle fantasie del sogno voi sapete che alcuni sogni noi possiamo anche sognare in parte episodi legati alla nostra vita passata e a volte ci sembrano veri forse rassomiglia sebbene mai hanno avuto l'esperienza la sensazione di essere già stato in un luogo che si vede la prima volta probabilmente molti fenomeni parapsicologici attenzione avranno spiegazione dalla perennità degli esseri nella quinta dimensione forse Dio permette per ragione che lui sa che certi mortali visitino il passato o il futuro ed in un certo qual modo operano su di essi sarebbe allora il caso della precognizione e della conoscenza del passato altrui in questa indimenticabile bilocazione la mia anima faceva delle comparazioni e delle deduzioni nonostante stavo vivendo al ritmo di bilionesimi di picosecondo come ormai sappiamo aveva ragione la mia bella amica l'anima umana per se stessa si trova libera dal trascorrere degli spazi tempi e dall'organismo che essa sta animando consostanzialmente tenera amata mi disse poi che rimasi appena alcuni attenzione centomilionesimi di picosecondo nel mio corpo di bambino ma a me sembrarono ore di nuovo torna questa singolarità quindi questa apparente completamente contraddizione in termini centomilionesimi di un picosecondo vi ricordate adesso non li faccio tanto torniamo indietro che cosa è un picosecondo cioè uno fratto un numero già lunghissimo d'accordo quindi assolutamente assolutamente inconcepibili cioè per noi già dire un millesimo di secondo che il cronometro riesce a contarli i nostri cronometri è già cioè è una cosa che facciamo in un millesimo di secondo forse faccio un battito di ciglia in un millesimo di di secondo forse non so forse anche un centesimo di secondo per fare un battito di ciglia non lo so per dire no allora non vi è dubbio che l'idea di passato presente e futuro sono prive attenzione a questo concetto di realtà oggettiva esse sono dovute al punitivo legame della coscienza umana col momento attuale che segna l'orologio anche queste cose noi le sentiamo dire e come come facevano strano a a ricardo sicuramente faranno strano anche a noi ma dire che presente passato e futuro sono realtà prive di consistenza oggettiva ma semplicemente legata alla nostra percezione soggettiva dipendente dal fatto che stiamo sempre incatenati come uno schiavo a catena all'istante attuale quindi nello scorrere del tempo anche qui aprire prospettive è abbastanza abbastanza inedite abbastanza interessanti andiamo avanti oggi finiamo questo viaggio probabilmente nel corpo del bambino no? o quasi esplorare le mie conoscenze infantili erano molto scarse timide ed erronee ovviamente ah se lei mi avesse permesso di informare il mio cervello infantile dei tanti riflessi condizionati che ho adesso dell'essenza di quanto studiato ma lei mi aveva avvertito che dovevo solamente osservare come spettatore che non operassi sul mio corpo infantile e mi risultava tanto facile attuare su di esso mi rendevo perfettamente conto in un attimo avrei potuto infondere formule leggi scientifiche abitudini abilità ricordiamo che questo è uno scienziato quello che parla chissà se avviene così nei bambini prodigi quel ragazzino era ansioso di conoscere delle verità percepivo io anziano i suoi difetti acquisiti mi sarebbe stato tanto facile aiutarlo se almeno lo avvisassi di tanti pericoli lo prevenissi di tante illusioni ma no lo avrei fatto diventare un bambino vecchio gli avrei ammazzato molti sogni belli gli avrei tolto slancio nelle sue imprese in quel momento io il vecchio percepivo il suo ingenuo amore verso tenera madre che prodigio sentire in tutta la sua vemenza quella passione rediviva così violentemente contraddittoria allo stesso tempo dolce tragica tenera ed esplosiva stagno e vulcano tornavo io a sperimentare la mia voglia di vivere la mia brama di sapere di arrivare a tutto ma si capisce senza andare a scuola questa bilocazione fu nella mia acciaccata età matura una tonificante trasfusione di vitalità infantile ringrazia ringrazia il nostro dio disse tenera amata per averti dato dotato di un'anima spirituale e non soltanto di organi materiali incapaci di bilocarsi attenzione che il principio della bilocazione ecco perché l'anima è sempre evidentemente il principio primo e più importante è l'anima è l'anima che sta attuando in due corpi diversi quindi evidentemente il punto di come dire di focale il punto di convergenza della nostra identità e della nostra personalità è chiaro che è l'anima ma è la forma sostanziale del corpo e di tutti i nostri corpi che abbiamo avuto si risposi al tempo stesso che sentivo una forte tentazione di comunicarmi intellettualmente al mio corpo infantile naturalmente lei si rese conto e mi esortò perché non lo facessi ma la mia imprudente curiosità come quella di Adamo ed Eva prima c'era una nota di Don Pablo dove diceva si ripropone la tentazione del giardino non sopportò la tentazione e fece un atto di impero sul bambino immobile gli domandai chi sei tu vediamo che succede adesso incominciavo appena a notare la rivoluzione cerebrale che gli produsse la domanda quando immediatamente Tenera Amata mi tirò fuori dal mio corpo infantile mi sentì di nuovo anziano accanto alla mia Celeste Amata ancora sul marciapiede di fronte alla finestra fine del gioco perché lo hai fatto? mi chiese con affetto ma con un certo dispiacere non dovevi influire coscientemente sul tuo corpo di bambino non capisci che questo si ripercuoterà su tutte le fasi del tuo corpo integrale ed eterno? avrei dovuto supporre che ti saresti contagiato di infantilismo lui dice ma oramai sono vecchio e ciò che ho fatto adesso nel mio corpo bambino non mi ha disturbato finora mi dice il nostro Dio sentite che bella questa cosa che dice unito sempre a me per gloria essenziale che io dovrei condurti alla tua adolescenza affinché tu possa vedere come influì in qualche cosa sia pur leggermente questa temerale domanda nella tua vita e qui pensate adesso alle cose alle cose che si che si complicano notevolmente se cominciamo a pensare a queste cose con la nostra testa umana ecco perché anche molte domande che mi fanno sia nelle mail o attenzione molti fanno le domande nei commenti pubblici ai video di Youtube dovrete capire io in pubblico non rispondo alle domande d'accordo ci sono dei moderatori dei commenti anzitutto io non mi posso parte il fatto che di tante questioni non è mai bene parlare in pubblico ma voi immaginate se io mi mettessi a rispondere a tutte quante le domande che arrivano su Youtube su Facebook su Twitter cioè io non cioè metto le cose nei ma ordinariamente non interloquisco e rarissimamente mi si perdoni anche sul canale Telegram rarissimamente proprio quando capita qualche cosa che si capisce che o qualche amministratore mi dice guarda che hanno detto questa cosa di qualcosa oppure che voi la dico io ecco perché sarebbe impossibile sarebbe anche io sono una persona limitata e faccio difficoltà anche a stare al passo con come dire con le consultazioni private perché io non sono una superstar evidentemente però quel poco diciamo così di di seguito che ho se tu non lo gestisci un po' ti manderebbe al manicomio ti manderebbe al manicomio tra telefonate mail immaginate no? commenti pubblici cioè uno non dovrebbe fare altro la mattina o la sera dimenticando che comunque la mia missione principale rimane sempre quella della parrocchia ecco per quanto i parrocchiani mi diano poco da fare perché anche questa è una realtà molto molto piccola però ci sono tante cose da 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 considerare soprattutto poi il limite degli degli spazi tempi e il fatto che il tempo è comunque limitato no? riprendo la la lettura quindi guardate che bello Dio che è sempre unito a me per quello essenziale cioè lui fa questa cosa e dice ma non è successo niente Dio dice a Teneramata per fargli capire che non è vero che è successo niente portano un attimo a vedere quella scena della sua adolescenza e poi vedrà se non è successo niente ma questo voi capite se ci rimettiamo con la nostra testa tu dici scusa allora lui era adolescente 50 anni prima di questo evento con Teneramata si spostano a 50 anni prima entrano in questa sorta di macchina del tempo che è creata e gli fa attuare coscientemente il suo corpo di bambino ma lo attua a un 58enne e come è possibile che una cosa fatta dopo dal 58enne sul bambino influisca quello che è avvenuto nell'adolescenza cioè una cosa prima non so se penso che tutti abbiamo fatto un ragionamento molto umano di questo genere ma non possiamo fare questi ragionamenti umani quando stiamo dinanzi a queste cose non possiamo e non dobbiamo perché non usciremo mai mi senti pieno di confusione come un anziano disobbediente che ha affetto di complesso di adolescentismo impulsivo questo se vergogna perché ha fatto la marachella ha fatto il discolo quella gli ha detto non devi far niente e lui ha ceduto alla tentazione e ha detto chi sei tu il nostro dio aggiunge continuo a tenere amata il nostro dio aggiunge continuo a tenere amata che questa domanda che hai fatto al bambino ti causò un lieve sdoppiamento della tua personalità il quale pur senza gravi fastidi ti turbò un po' nella tua conoscenza ricorda non ti ricordi che ti domandavi chi sono io e che osservavi te stesso cercando la causa di una tale strana imperiosa domanda è vero con i colpi della vita non ero dimenticato perdonami capite no? allora dio dice a tenere amata rinfrescargli un po' la memoria ricordagli il fatto che durante l'adolescenza ogni tanto si domandava ma io chi sono e e poi si chiedeva ma perché me la sto a fare questa domanda ma pensa alla salute perché se la stava a fare perché lui stesso gliel'aveva fatta a sé bambino capite capite è difficile cioè focalizziamo ecco che già sarebbe tanto è vero con i colpi della vita mi ero dimenticato perdonami infatti ricordai che essendo giovane leggevo il discepolo di Paul Bourget non conosco questo libro per vedere se trovavo la causa di quel leggero ma molesto sdoppiamento della mia personalità sdoppiamento della personalità con quanta ragione Dio ci tiene rinchiusi dentro le transenne dello spazio tempo del momento attuale perché se ci lasciasse vagare a piacimento nostro nel complesso labirinto delle onde temporali ci danneggeremmo noi stessi fino al disastro questo è un punto molto importante e che ci fa comprendere anche quanto è grande e quanto è importante la divina volontà ecco e che ci fa anche comprendere quanto è grande e quanto è importante l'umiltà profonda imparare a stare al nostro posto voi pensate alla gente perché sono peccati mortali per esempio gravissimi chi va a ricorrere alla divinazione ai medium alle scritture automatiche ai registratori quindi che vuole in qualche o va dai maghi no per conoscere il futuro sono cose che il nostro signore ci ha interdetto e non dobbiamo cercare di sfondare queste porte perché questo produce delle conseguenze nefaste negative Riccardo sta dicendo noi non saremmo in grado di gestirlo adesso una situazione di questo genere non sapresti che fare e se ti muovessi in qualche modo faresti solo che guai guai come la fatti lui non vi è dubbio che la materia l'energia lo spazio il tempo e l'eternità creata sono dei complicatissimi meccanismi dei quali soltanto osserviamo e comprendiamo il loro aspetto esterno senza poter capire gli intimi meccanismi questo mettiamocelo in testa questo vale anche per tante realtà di fede tante domande che vengono fatte che non ci sono risposte non ci sono non bisogna proprio farsene certe domande perché noi siamo limitati tanto tu puoi perci tutta quanta la cultura che vuoi perci tutte quante le lauree che vuoi perci tutto quello che te pare cioè in questo mondo c'è un limite oggettivo che deve farci sempre volare bassi io credo che siano di grandissima aiuto perché se uno queste cose proprio le 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 dice ma la superbia ma come si fa ad essere superbi ma che te devi essere superbo noi non siamo nessuno non siamo quel poco che ci abbiamo è poco è imperfetto è imperfetto è povero è piccolo ecco questo non pensiate che don leonardo sia qualcosa per favore d'accordo se esce qualche cosa di buono dal sottoscritto datene sempre l'ode e ringraziamento a Dio per favore dico questo perché ogni tanto qualcuno lo fa allora io direi che è bene fermarci perché adesso poi inizia il ventesimo capitolo dove si aprono degli spirali ulteriori anche in relazione al commento di ciò che è accaduto e un po' una sintesi di questa particolare esperienza non è bene che lo trattiamo la prossima volta in modo tale che ce lo gustiamo e ce lo leggiamo tranquilli e con calma quindi ci diamo appuntamento con questo alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre e tutti vi protegga e la prossima puntata